L'acqua è sempre stata, lasciamola stare, viviamo così, è sempre stato, ero vissuto anche il 66 perché ero in barca, sono uscita di casa in barca quella volta. Sì, ma lunedì, il primo dicembre, aveva toccato? 1,74 e questo lo può dire. Com'è nel 66 o no? No, 12 centimetri in meno perché abbiamo misurato quella tacca. Però potrebbero alzare le rive, capisci? Quello già sarebbe una bella misura. Molti posti di Venezia sono stati alzati, di 80 centimetri, dunque adesso là è tranquillo, perché sennò sarebbe tutta sommersa, perché parecchie rive sono state alzate. Si fa il Canal Grande dove c'è il Museo di Storia Naturale, è stato rialzato lui. Cosa pensate? Ma chi c'è? Niente, niente, c'è uno... Ah, chi c'è? No, no, c'è un anti, c'è però un anti. Un anti? Sì, una borsa. Una borsa? Sì. Ah, ok. Ma chi c'è? C'è un antiterrorista. Chi c'è? Un poliziotto? No, 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 un poliziotto. Chi c'è? No, il mio, il mio scherzo del pubblico. Ah, il capo? Sì. Ah, buon lavoro. Grazie. Ciao. Ciao. Mi raccomando.